Una piccola polemica arriva dal Movimento 5 Stelle sulla richiesta da parte di esponenti del PSI regionali ai ministri dell'ambiente e non solo di portare la Costa Concordia qui a Civitavecchi. Ma io credo una polemica senza senso, senza logica. Io invito invece a fare una riflessione diversa, ad aiutarci ad ottenere questo risultato. Un risultato che non interessa una parte politica. Se leggiamo bene la nota di Oscar Tortosa, del nostro consigliere Oscar Tortosa, in quella nota si nota bene veramente il senso di questa cosa e l'importanza di questa cosa. Oscar Tortosa cosa fa? Uno coinvolge Costa Crociere, che prima non veniva coinvolta. C'era un'altra arroganza da parte della politica, a dire porta la nave qui, porta la nave là, ma chi deve pagare lo smantellamento della nave è Costa Crociere. Quindi dobbiamo parlare con Costa Crociere. E quindi per questo diciamo ai due ministri coinvolge Costa Crociere. Lo faranno senz'altro, già magari lo stavano facendo, però lo diciamo anche noi. Ma in più diciamo un'altra cosa. Non dividiamoci tra noi e la Toscana, ma creiamo una sinergia tra noi e la Regione Toscana. Perché dobbiamo dare risposte importanti. Ora, la Toscana non è in grado di ospitare la Costa Concordia, quindi demolirla lì. Perché Piombino, se iniziano a laureare oggi, non sarà pronta prima di tre anni. Civitavecchia è pronta, ma questo non lo dice Alvaro Balloni, l'ha detto già anche il Presidente della Lutera Portuale, lo ha detto anche il Sindaco. Perché è così? Civitavecchia ha i fondali, ha i banchini, ha le maestranze, come le maestranze ci sono in Toscana. Noi se uniamo le forze possiamo dare risposta, una risposta importante al territorio, una risposta importante dal punto di vista economico e occupazionale, senza pericoli per l'ambiente. Qui dobbiamo essere chiari, nessuno vuole peggiorare la situazione ambientale, ma non dobbiamo per lotte politiche inventarci cose che non esistono, che non danneggiano una parte politica, ma rischiano di danneggiare veramente, seriamente, poi tutta la collettività. Quindi non dividiamoci su queste cose, ma lavoriamo tutti insieme.